Ho le tassi per crescere. Progetto di educazione cinca. Scuola dell'infanzia Ciofani Plana. Sezioni azzurre. Le maestri ci hanno portato una macchina fotografica professionale e l'abbiamo osservata molto attentamente. Anche a casa ce l'ho una. Fotografando Torino. Siamo andati indietro a Torino per scoprire il nostro quartiere. L'amore. Il canzello della Rai. Abbiamo scelto le cose che ci piacevano e le abbiamo fotografate. Pianca Castello. E' il trattato del teatro Ezzo. Dall'Elì a Giubatina. Magra Madre. Piazza Vittorio. Caffè Palazzi. Caffè Palazzo Carignano. Polette Città. Mani. Logocchiette in bianco e nero. Macchinina e scatolina. Uccellino in mezzo al prato. Cale bianco. Cale nero. Riposo del guerriero. Un piccino in testa. Un piccino in testa. La statua di Gandhi. Ottana. Due. La pete. La nostra squadra. La nostra squadra. Robottino Vattorino. Abbiamo scattato le cose. L'abbiamo stampate. Abbiamo creato una nappa di Torino. Per il progetto di Godwin. Poi abbiamo messo le tessere sulla plancia di controllo e il robottino è andato dove volevare. Per me il coding è una ginnastica digitale per il mio cervello. Segno a ragionare e mi segno ad essere senziente. A fare le cose passo dopo passo. Con il robottino vogliamo torino. Abbiamo capito che è importante tenere la città pulita facendo una raccolta differenziata. Robottino ci ha aiutato a raccogliere i risultati. Dalla massa l'abbiamo buttato in del cassonetto giusto. Grazie a tutti.